Pensare di decretare al 31 dicembre 2021 la fine delle USCA le unità speciali di continuità assistenziale istituite nel febbraio marzo 2020 è un errore gravissimo, ingiustificabile alla luce dell'attuale andamento pandemico. A lanciare l'allarme all'ex sindaco dell'Aquila in qualità di responsabile salute del PD Abruzzo, Massimo Cialente. Essenziale il servizio delle USCA di tutti quegli operatori che visitano a domicilio i pazienti, che fanno anche i tamponi a casa. Peraltro le USCA sono previste in un decreto ministeriale. Cialente manda un messaggio anche alla politica, al presidente Marsile e l'assessore Veri affinché prendano posizione, anche se il governo sta cominciando a parlare di proroga dello stato di emergenza. È una follia perché in questo momento la pandemia non è ferma. Ci sono casi qui in Abruzzo, nella provincia dell'Aquila, noi stiamo segnando in questo momento il maggior numero di positivi al giorno. Sono persone che vengono seguite dall'USCA. se non dovessero esserci più le USCA. Chi ci va, primo? E se si trova qualcuno che ci va? Con quali attrezzature diagnostiche? Ci siamo mobilitati 21 responsabili a livello nazionale della sanità e stiamo premendo sul ministro, il quale io ieri ho mandato anche un promemoria. Cialente, da quando è in pensione come medico, sta dedicando il suo tempo alla campagna di vaccinazioni. Spiega perché è così importante continuare a vaccinare, anche per non incidere sulla pressione degli ospedali. Molte operazioni che vengono rimandate perché mancano gli anestesisti. Cialente denuncia anche un altro fatto, un paziente è arrivato all'Aquila perché da Vasto e Pescara sarebbe stato rifiutato. La politica in questo senso deve fare la sua parte, afferma. In questo momento alcuni reparti, penso ad esempio l'urologia, non riesce a operare pazienti che stanno in lista d'attesa da un mese e mezzo, due mesi, per un tumore della prostata. Voi immaginate il dramma di queste persone. Non possono essere chiamate perché in questo momento ci abbiamo. Abbiamo dovuto riaprire la rianimazione Covid e perché abbiamo il reparto Covid, malattie infettive in questo momento all'Aquila non esiste perché è diventato Covid. E a questo punto io vorrei dire una cosa anche politica. Un malato di Vasto di Covid necessitava di assistenza in rianimazione. Da Vasto, provincia di Chieti, non è stato preso a Chieti, non è stato preso all'ospedale regionale Covid di Pescara che si rifiuta a ricoverare e alla fine è arrivato qui all'Aquila. Ma vi pare giusto che in questo momento rispetto all'ospedale Covid costato 13-14 milioni regionale, la sanità degli aquilani si afferma. Io di questo credo che ci sia una complicità omertosa da parte della politica aquilana, dal centro-destra, in primis del sindaco Biondi che è il primo responsabile della salute.